Ciao a tutti, il mio nome è Danilo e sono un amico di Charlie, per questo che mi trovo qui con voi sul suo sito. Andiamo a preparare un drink molto semplice e anche d'effetto, un pus caffè di cian, un digestivo, a base di sciroppo di menta, sambuca e panna, panna fresca. Trattandosi di un pus caffè, utilizzeremo un bicchiere idoneo, piuttosto stretto. Il procedimento è molto semplice, bisogna fare un poco attenzione nel versare gli ingredienti, in quanto si vanno a separare fisicamente nel caso del coso specifico. Pensate alla menta, ora saremo la sambuca. E infine, la panna fresca, aiutandoci con l'ampollina, andiamo a smuovere per renderla un po' più densa. Alla prossima! Ed ecco pronto il nostro digestivo. Grazie per la visione!